Salve a tutti e buon mercoledì! Eccoci con le nuove anticipazioni di Beautiful. Scopriamo insieme cosa succederà dal 23 al 29 maggio. Il grande mistero del test di paternità si è risolto. Il vero padre del figlio che Steffi porta in grembo è Finn e non Liam. Per Steffi questo è un momento meraviglioso anche perché potrebbe presto unirsi in matrimonio con il suo amato. La donna però deve prendere una decisione importante, sporgere oppure no una denuncia nei confronti di Vinny perché quello che ha commesso è veramente grave. In più c'è qualcosa che fa soffrire Steffi, la situazione in cui Liam si trova. Lo Spencer è veramente nei guai. Hop infatti, pur essendo disperatissima, ha preso una decisione irremovibile. Vuole separarsi da Liam. La ragazza, pur avendo saputo che il figlio di Steffi e di Finn, non ha trovato il sollievo che cercava. In lei infatti è rimasta l'amarezza grandissima del fatto che Liam l'ha tradita con Steffi. Per questo non riesce ad andare avanti. La decisione di Hop distrugge letteralmente Liam, il quale, dovendo abbandonare pure il tetto coniugale, chiede asilo a suo fratello Wyatt. Suo fratello ovviamente gli mette a disposizione ogni aiuto possibile, anche se comunque sta per fare un passo decisivo con la sua compagna. Hope è nervosissima e non riesce a prendere niente per buono, neppure il fatto che la sua famiglia si sia riavvicinata a Flo Fulton. La giovane odia sua cugina per quello che le ha fatto in passato e la tratta con freddezza e ostilità. Brooke e Ridge tentennano di nuovo. Ridge infatti, dopo aver saputo che è stato Thomas a far venire fuori la verità sul test di paternità di Steffi, ha capito che suo figlio è cambiato ed ha scelto di fidarsi un po' di più di lui. Peccato però che Brooke non la pensi così. Certo è che la donna ha rivalutato il giovane, ma continua comunque ad essere molto diffidente nei suoi confronti. E ovviamente non vuole che Thomas si riavvicini ad Hope, in nessun senso. Questo porta dei nuovi dissapori tra i due coniugi. La verità è che Thomas ama ancora Hope, però per lei desidera la felicità, quindi vorrebbe rivederla con Liam. Questo è uno spoiler pesantuccio, anche un pochino sconvolgente. Pare che a Beautiful presto accadrà qualcosa di macabro. E no, non si tratta dell'imminente ritorno di Queen, ma di ben altro. Pare che presto infatti verrà ritrovato un corpo senza vita e che la famiglia Spencer, Bill, Liam e Wyatt finirà nel mirino della polizia. Grazie a tutti.